Uniti dal filo conduttore di un export che cresce a doppia cifra annuale costante l'automotive delle alte tecnologie in Val di Sangro e le eccellenze dell'agroalimentare la pasta, fara San Martino e il vino a tollo sono stati al centro degli incontri sul territorio della provincia di Chieti del candidato alla presidenza della regione Giovanni Lignini che ha voluto ascoltare gli imprenditori del Made in Abruzzo che vince sui mercati internazionali oltre al sostegno finanziario ai progetti di ricerca e innovazione promossi delle imprese vogliamo una regione sostenibile e capace di accrescere le occasioni di lavoro tutelando il lavoro che c'è, ha detto Lignini a chiudere il tour in serata l'incontro sui temi dell'agricoltura del futuro tra le centinaia di soci di Cantinatollo una delle realtà più forti della cooperazione nell'agroalimentare a livello nazionale Lignini ha sottolineato di vederli evitare giorno dopo giorno l'ascolto e il consenso attorno al suo progetto e alle otto liste della sua coalizione e nello specifico ha focalizzato le priorità programmatiche a sostegno del comparto agricolo Cresce la partecipazione, l'ascolto del nostro progetto politico, della nostra proposta politica quello dell'agricoltura è uno dei settori sui quali più vogliamo puntare in particolare sburocratizzando il rapporto tra gli imprenditori agricoli e le regioni accelerando le procedure, mantenendo gli impegni, mantenendo la parola favorendo i nuovi insediamenti, in particolare dei giovani manutenendo le infrastrutture, favorire l'innovazione e la ricerca tantissime cose da fare insieme alla necessità di tutelare gli imprenditori agricoli le loro produzioni dai danni dei cinghiali da parte dei cinghiali, è un impegno che dobbiamo assumere perché la situazione sta diventando allarmante